Quanto accaduto a Cutro è l'ennesima tragedia che spinge a cercare risposte adeguate. Lo ha detto il presidente della conferenza episcopale italiana, l'arcivescovo di Bologna, il cardinale Zupi, partecipando a Taranto alla 51esima settimana della fede. Ascoltiamo. Un diritto che va garantito perché chi lascia con dolore la terra in cui è nato, cresciuto e in cui ha vissuto, lo fa perché spinto dalla disperazione, mettendo anche a rischio la sua vita. E accogliere diventa così l'unico verbo che fa rima con migrazione. Le parole dell'arcivescovo di Bologna e presidente della conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Zupi, sono chiare. Le ha pronunciate a Taranto, dove ha partecipato a uno degli appuntamenti inseriti nel cartellone della 51esima settimana della fede. Trovare una risposta corale e decisiva è l'unica strada da percorrere per evitare di rivivere lo stesso sconforto provato guardando le bare di Cutro. Questo non può essere soltanto un problema italiano, un problema tutt'altro all'Europa. E poi bisogna operare delle scelte, delle scelte non contingenti, non legate all'emersione di problemi. Il problema dell'emigrazione è un problema che già affrontiamo da più di 30 anni, si presume che non è che finisce quest'anno e quindi a maggior ragione è indispensabile fare di questa ennesima tragedia una consapevolezza di trovare delle risposte adeguate sia per quanto riguarda l'Italia che deve fare la sua parte e sia l'Europa che deve fare la sua parte e aiutare l'Italia a fare la sua parte. Le migrazioni sono dettate dalla fame, dalla mancanza di futuro e dalla guerra e lì dove vi sono conflitti c'è odio e dove c'è odio c'è incapacità a dialogare perché impera un mutismo egoista. E allora rompere il muro del silenzio, tornare responsabilmente a dialogare diventa la strada da percorrere anche da parte della politica con l'unico obiettivo trovare pace. Sì c'è una debolezza politica, c'è una debolezza della diplomazia, c'è una debolezza della società, della città degli uomini che assiste all'ennesima tragedia di una guerra piena dell'Europa come quella che stiamo vivendo in Ucraina. La pace ci coinvolge tutti nelle varie responsabilità e credo che tutti debbano essere in maniera diversa artigiani di pace.